ciao a tutti in esclusiva per il quotidiano l'adige i plebei vogliono presentare con questo video l'inizio del velo svelo tour che avverrà precisamente amori dall'artesan birrante e successivamente il tour si svolgerà anche all'estero quindi stiamo parlando di grecia stiamo parlando di germania stiamo parlando di romania ma la cosa ma che che ma guardate un po' guardate un po' questa cosa qua ma io ero venuto per i plebei? che plebei? che plebei? sono qui per i super cani ho una canzone ma non te l'avevo detto che l'ho cercata dentro al vano sotto il letto purtroppo lì non c'era l'ho vista ieri sera e scriverla dal capo non si può si fu rivolto tutto nel combo e nel tarmac poi nel salotto e nella camera da letto che forse sia in cucina ma ho già guardato prima è un sogno che mai più racconterò il l'are già lo sa che fuoco d'acqua mai lo incrinerà è bianco quel foglietto coraggio fai leva ed apri il mobiletto dai tira perfetto canzone nel cassetto 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 Assunzione, il cassetto, assunzione, il cassetto. Ho trovato nella piazza, no tu, 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 tu. Assunzione, il cassetto. Assunzione, il cassetto. Ciao a tutti, noi siamo 3 quinti dei plebei, stiamo facendo questo video in esclusiva per il quotidiano L'Adige, semplicemente per dirvi che venerdì prossimo i plebei si esibiranno all'artesan birrante di Mori, mi raccomando a corrette numerosi, ci saranno molti artisti, ci saranno delle novità interessanti per tutti, quindi secondo me non dovete perdere questa occasione. Ma ci c'è il tour? Ah tra l'altro è la prima data del tour, Velos Velotour, inizieremo da Mori, dopodiché andremo all'estero direttamente, andiamo a Creta, andiamo in Germania, andremo in Romania, Dusendorf, sì e tante belle cose faremo insomma. Ma vieni anche tu? La prima sì perché è birrante, ti piace? Sì, Rodolfo Sgangan dei supercari. Sgangan? Sgangan dei supercari. Ma no, è questa la... Com'è Rodolfo? Sgangan? Brodolfo Sgangan. Ma sennò è importante perché Sgangan non mi sento io, ma Sgangan sì. Ah, ma sì. È tutto registrato comunque. Lebei? Pare di sì. Difatti conosce Plebei lei? Ok, fermi, è troppo lungo. Beh, ci arriveremo. Vabbè, ma poi fai i montaggi, no? Tagli, aggiungi, metti. Tagli, aggiungi, metti. Ahhhh...